Rieccoci nella zona bianca di Rete4, ripartiamo da una data, 2 febbraio, è il giorno in cui è cominciata la battaglia legale su un bambino modenese di due anni che deve essere operato al cuore. I genitori non accettano sangue che non sia di persone non vaccinate. E però la domanda è proprio questa, la fede Novax può essere così forte, così cieca da mettere a rischio la salute dei propri bambini? Ce lo chiediamo questa sera insieme con Alba Parietti, in studio con il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo e Gianluigi Nuzzi che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Collegato da Roma Mario Adinolfi, popolo della famiglia, sempre da Roma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Volevo sentire Adinolfi, ritornando al discorso del bambino, ha sentito il papà che la mette sul piano religioso, è possibile? È accettabile? Io ho visto un papà, sostanzialmente ho visto un papà che ha chiesto ragione perché gli fosse stata sospesa una potestà genitoriale dopo che per anni evidentemente questo papà è stato attraversato dall'angoscia, insieme alla mamma curano questo bambino ogni secondo, ogni minuto con la palpitazione propria dei genitori, genitori attraversati da una fede, da una fede molto piena che porta a considerare anche ad esempio, secondo loro, una valutazione rispetto alla questione dei feti utilizzati per la produzione dei sieri. Quindi questo elemento non può essere irriso o addirittura calpestato nella maniera con cui è stato fatto dalla magistratura. Questi sono dei genitori molto miti che hanno messo a disposizione 40 donatori di sangue che non era sangue di vaccinati, di donatori non vaccinati, che come si è visto dalla vostra intervista hanno un'attitudine per niente battagliera, non sono in grado neanche di combattere una battaglia mediatica rispetto a questo tema. Vogliono semplicemente amore per il loro figlio. Ecco però, Mario, proprio per questo non si dovrebbero totalmente affidare... Lo so, qui stiamo parlando sempre della cosiddetta scienza. Ti fermo un attimo, Mario. Ti fermo un attimo, Mario, perché il problema poi, dal punto di vista religioso, pseudo-religioso, c'è questa enorme fake news della presenza nel vaccino di cellule, di feti abortiti. Adinolfi! È un'operazione urgente, i medici la devono fare. Mario. Guarda, il documento della congregazione della dottrina della fede spiega, essendo intervenuto nell'argomento, così come ha letto precisamente Borgonovo, che la questione è un problema nella Chiesa ed è stata affrontata appunto in quei termini, in termini non peraltro del tutto chiarificatori. Quindi questo elemento è la base della discussione che è in corso. Per quanto riguarda la coppia di genitori, ma qualcuno mi spiega per quale ragione è stata operata la violenza di sospendere la potestà genitoriale, che è un atto gravissimo, che non si fa neanche con i testimoni di Geova, che spesso vengono accompagnati in strutture sanitarie, dove le trasfusioni sono fatte in una certa maniera adeguata ai loro bisogni. Ora, questi atti sembrano voler punire in maniera esemplificativa, colpirne uno per educarne cento, quei genitori che hanno un atteggiamento diverso rispetto al vaccino. Ma allora, Giorgia Meloni, cosa facciamo? Togliamo la potestà genitoriale? Ma arriveremo lì, ma arriveremo lì, Adinolfi. Perché qui siamo arrivati al punto, che il punto è questo, i genitori come me, io sono un non vaccinato, essendo considerati dei minus abbenz, persone che credono abbaggianate, debbano essere privati della potestà di educare i loro figli, d'altronde la linea porta a quella conseguenza e il fatto che nessuno oggi stigmatizza in studio l'atto violentissimo della magistratura. No, mi sembra che lo abbiano stigmatizzato sia Borgonolo, ma anche Null, ho detto. Sono gli unici che vogliono davvero bene a quel bambino, di aver compiuto questo atto violento di togliere la potestà genitoriale a mamma e papà senza che questo sia un problema? Non lo diciamo? Io credo che il problema... Non lo diciamo che è un problema dei diritti di quel bambino e di quei genitori. Adinolfi, io sono raramente quasi mai d'accordo con te, su questo sono d'accordo da un altro punto di vista, nel senso che di fronte a delle situazioni così delicate, di fronte a diritti così fondamentali, che è quello della genitorialità, lo dicevo prima, qualsiasi provvedimento che viene preso, va assolutamente motivato e vanno rese pubbliche le motivazioni e va resa pubblico gli agganci che ci sono con la giurisprudenza. E sai bene quali sono le motivazioni nuzzi di questo provvedimento? Colpirne uno per l'ugare necettro, queste sono le motivazioni. Questa è una tua interpretazione politica. Non hanno ragione giuridica. Non hanno ragione giuridica. Siamo tutti medici, giuristi. Sì, tutti medici, giuristi, specialisti, cardiologi, virologi. No, no, ma senza essere giuristi. Però c'è una questione. Ma questo è propaganda, dai. Se i genitori dicono, qualora dovessimo operarlo domattina, noi diamo il consenso. Perché se non si può aspettare oltre, diamo il consenso. Se non si può aspettare oltre, diamo il consenso. Se non si può aspettare oltre, diamo il consenso. A base di questo discorso che stiamo facendo, è sempre quello. La scarsa fiducia nei vaccini. Allora, adesso, per esempio, bisogna togliere la potestà genitoriale a chi non vaccina i figli. Ma questo abbiamo detto tutti che è un provvedimento assolutamente eccessivo. Ma quantomeno noi non conosciamo le motivazioni fino in fondo. Ha detto giusto Nuzzi, bisognerebbe conoscere i motivi della sentenza. Che in questo momento... Li conosciamo perfettamente. Ma no, non li conosci perfettamente, Mario. Questa è un'ipotesi. Non li conosci neanche tu. Però voglio dirti che, per esempio, c'è stato... Ma non li conosci. Nel caso di due genitori a Parma, c'è stata una sentenza nell'ottobre del... Eccoci nella zona bianca, la zona bianca di Rete 4. Cominciamo da un numero, come sempre. 143. 143 sono le firme che ha raccolto il sindaco di Mapello per cacciare tre preti Novax. Uno di loro, il viceparroco, è in pellegrinaggio contro i vaccini. Pensate, il vescovo l'ha sospeso e a Bergamo non lo vogliono. Poi, vestendo tutto questo di una fede che non è una fede, forse, ma è qualcosa di diverso. Io penso che i distributori di fake news, uso un verbo forte, credo che questi distributori stiano godendo molto nel vedere i conflitti, la destabilizzazione che nel nostro paese viene portata avanti a favore di chi queste cose, sì le inocula, sì le diffonde, sì le distribuisce e crea terrore e crea disorientamento. Mario Di Nolfi, tu sei un uomo di fede. Dimmi che sei d'accordo per una volta con il vescovo che ha sospeso questo prete. Dimmi di sì. Ma avete letto la lettera di Don Emanuele? L'avete provata a leggere per una volta senza i paraocchi dell'ideologia? Ha detto, vi metto in cammino perché c'è gente che non può neanche prendere l'autobus più perché è limitata in questa maniera dove sugli autobus salgono pure i cani. Mi metto in cammino perché ci sono centinaia di migliaia di famiglie che sono ridotte senza stipendio. Mi metto in cammino perché non credo a meccanismi di limitazione dei diritti fondamentali della persona che sono negati dai green pass, super green pass rafforzati e altre follie varie. Si è messo in cammino verso gli ultimi, verso i più diseredati, verso gli inascoltanti... Ma di che stai parlando? Mario, sarà pure che si è messo in cammino contro il green pass, ma parla male dei vaccini, dice che il vaccino è veleno, ma di che stiamo parlando Mario? A cui togliere persino i figli e voi non riuscite a cogliere che dentro questa predicazione c'è il messaggio di Gesù, dello stare a fianco agli ultimi, non lo cogliete questo... Gasparri è colpa vostra, è colpa di voi politici che mettete il green pass, è tutta colpa di Gasparri. Apartheid vergognoso, Gasparri è colpa vostra. No, intervengo quando finisce Mario. ...senza stipendio, senza diritto a salire su un autobus. L'hai detto Mario, l'hai ripetito. Anche quelli con il green pass scaduto. Anche quelli con il green pass scaduto. Sì, prego Gasparri. Non essere intollerante. Allora, io sono un cattolico praticante, anche oggi sono andato a messa, il mio parroco come tanti sacerdoti è favorevole al vaccino, quindi questa minoranza strana va evidenziata come Pappalardo, quelli lì che vogliono fare il colpo di Stato domani a Roma. Ma perché questo gioco Maurizio? Ma perché? Ma perché? No, 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 scusa, io non ti ho interrotto, non ti ho interrotto. Perché non parla da ascoltare un attimo? La Chiesa è un'istituzione seria. No, scusa Mario. Dai, dai Mario, però fai parlare Gasparri. Ti ha fatto parlare. Ma no. Mario, non mi costringere ad abbassare il microfono, dai. Ognuno può parlare, lo spazio a tutti. La Chiesa è un'istituzione seria, il dibattito tra scienza e religione è un dibattito antico, la Chiesa ha anche chiarito rispetto a Galileo altre questioni, qualche secolo dopo le sue posizioni, la Chiesa italiana è favorevole ai vaccini, le figure da macchietta che sono state mostrate disonorano la Chiesa e fanno parte del compendio del pappalardismo, figure ridicole. Non è vero, non è vero Maurizio, non è vero, ascolta la Chiesa. E non è quella che tu vuoi rappresentare da vallare, la vuoi rappresentare come uno che difende le minoranze senza diritti, vive il Green Pass, vive i vaccini, che hanno salvato questo paese e l'umanità. Questa è la verità vera e la Chiesa lo sa ed è pieno di rapporto. Questa è una valutazione politica che puoi fare, ma dal punto di vista ecclesiastico però Mario, Mario non puoi parlare, puoi parlare male del Green Pass ed è una tua opinione, parlo del prete, ma non puoi parlare male dei vaccini, perché? Nei vaccini c'è il demonio, nei vaccini c'è la bestia. Don Emanuele fa un percorso, fa un percorso. Ma no, ma il percorso, io il percorso glielo faccio fare tranquillamente. E vi foste mai interessato a qualcuno in leggere cosa dice Don Emanuele? Don Emanuele parla dei sofferenti limitati in questo momento in maniera pesantissima da normalità. Don Emanuele vuole i riflettori dei giornali, della televisione, lo sai anche tu, è un uomo che sta cercando i riflettori dei giornali e della televisione. Perché un sacerdote se sta nella chiesa ascolta il suo vescovo, i riflettori li vogliono solo loro ovviamente, gli altri mai. Non è che chiede le dimissioni del Papa come ha fatto Monsignor Viganò, perché allora è un'altra cosa, allora non è più una teocrazia, è un mondo repubblicano dove c'è un presidente che ha una funzione politica e parlami sopra, è tre ore che parli. Può liberamente, fai quello che vuole. Io voglio sentire la pariette, fermi, veramente esprimere la sua opinione. Mario però non puoi parlare sempre, hai parlato, stai parlando, dai spazio anche agli altri. Sentivo in sottofondo una musichetta. E' una piccola gag che ci serve per ricordarvi che la zona bianca da oggi e per i prossimi 7, 14, 21 e multipli di 7 andrà in onda di domenica e quindi vi rimando a settimana prossima, a domenica prossima, restate sempre nella zona bianca, vi aspetto. domenica è come forse.